Siamo ritornati insieme in questo giorno di festa in cui la figura di San Giovanni Battista, come è logico che sia, torna in maniera forte nella nostra puntata. Abbiamo già ascoltato dalla riflessione di Fra Italo con la rubrica Il Santo del Giorno alcune delle caratteristiche di questa figura così importante. Vogliamo continuare ad indagare su alcuni aspetti della vita del Battista con Don Giovanni Frisenna, che è collegato con noi tramite Skype da Foggia, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia a Bovino, che è davvero un caro amico e questa mattina sarà con noi per approfondire alcuni aspetti legati a San Giovanni Battista. Tra l'altro facciamo gli auguri di buono nomastico a Don Giovanni in questa giornata così importante. Buongiorno, ben trovato e auguri Don Giovanni. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, Don Giovanni, partiamo da questa figura, San Giovanni, ecco, spero ovviamente di non fare le confusioni con i vari titoli, però sappiamo che il Battista è uno dei Santi più venerati nel mondo perché la Chiesa lo festeggia come la Vergine Maria anche nel giorno della sua nascita. Nelle varie riflessioni che sentiremo nel corso delle omelie per chi parteciperà alle celebrazioni, ecco, sentiremo spesso l'aggettivo il grande, la grandezza di San Giovanni Battista. E allora io vorrei chiederti, per partire, da dove deriva questa grandezza? Sì, 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 già la scelta della festeggiare San Giovanni Battista, non soltanto come gli altri Santi nel giorno della loro morte, ma anche nel giorno della loro nascita, ci dice qualcosa importante di quest'uomo. Perché noi festeggiamo, ecco, la nascita di Gesù, la nascita della Vergine Maria, ma festeggiamo anche la nascita di Giovanni Battista perché si inserisce pienamente in quello che è il mistero della nostra salvezza. E la stessa data della festa ci dice qualcosa, infatti si colloca tra l'annunciazione, che abbiamo celebrato il 25 marzo, e il Natale di Gesù, che celebreremo il 25 dicembre. Sappiamo che questa data non è casuale perché deriva un po' dalle indicazioni che l'Angelo Gabriele dà a Maria. Elisabetta si trovava al sesto mese, dunque, ecco, è facilmente comprensibile perché la festa viene fissata al 24 giugno. Però nello stesso tempo il 24 giugno è anche periodo del solstizio d'estate. E dunque questo ci dice anche a livello cosmico qualcosa sulla figura di Giovanni Battista, perché esattamente Giovanni è colui che lascia spazio a colui che sta arrivando, che è Gesù. Allora, guarda caso, il Cosmo ci dice anche questo, perché sappiamo che le giornate si allungano verso il solstizio d'estate e poi da dopo iniziano a scemare, diventare sempre più breve. Ma chi ci dice che Giovanni è davvero una persona grande è lo stesso Gesù, non lo diciamo noi. Se apriamo il Vangelo, il Vangelo di Luca, per esempio, troviamo che Gesù dice a tutti apertamente che fra i dati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni. Però poi continua anche, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Sono poche le persone che hanno dei complimenti così espliciti da parte di Gesù. Ecco che Giovanni in qualche modo è quella cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento, perché chiude il primo e apre il secondo. Nello stesso tempo è colui che mostra al mondo che il Messia è finalmente arrivato. Ecco perché è più grande, però nello stesso tempo è più piccolo, perché non può godere di quella pienezza ancora che Gesù è venuto a portare. Sappiamo, secondo la tradizione, ecco, Giovanni muore all'inizio del ministero della vita pubblica di Gesù. Dunque non potrà godere, beneficiare tutta quella grazia che sgorgerà proprio dalla sua passione, dalla sua morte e dalla sua risurrezione. Ecco perché poi il più piccolo nel regno di Dio che può beneficiare di questa grazia e di questa salvezza è più grande di lui. E non è un caso che San Giovanni Battista, a proposito di questa grandezza, poi per fare anche un termine di paragone più laico, ecco, permettimelo Don Giovanni, sia uno dei patroni di tantissime città d'Italia. Ecco, San Giovanni Rotondo, per restare un po' vicini a noi, è una di queste, ma anche penso a Genova, a Torino, a Firenze. Insomma, davvero è un grande santo. Stiamo vedendo anche alcune immagini che testimoniano un po' l'iconografia che lo rappresenta. Questa che state vedendo è relativa, appunto, l'abbiamo già vista nel corso della puntata, a San Giovanni Rotondo. Dunque la statua che si venera all'interno della chiesa matrice di San Giovanni Rotondo, ma poi ne abbiamo viste anche tante altre. Giovanni è stato definito il precursore, dunque l'ultimo dei profeti. Quello che vorrei chiederti, qual è l'elemento di novità che porta con la sua vita? Sì, Giovanni ha questo ruolo proprio profetico, ecco perché viene detto che è il precursore. Colui che anticipa, precorre, annuncia, non soltanto con la parola, ma specialmente con la vita, quello che compirà Gesù. E noi basta pensare a due momenti importanti. Quello che ci è narrato nel Vangelo della visitazione. Sappiamo quando Maria si reca dalla cugina Elisabetta, ecco che avverte nel grembo Elisabetta che Giovanni, il piccolo Giovanni, esulta nello spirito. Cioè annuncia, potremmo dire, ad Elisabetta per primo che il bambino che Maria custodisce nel grembo non è un bambino qualunque, ma è il figlio di Dio. Dunque è il primo a dare questo annuncio in maniera forte, ed è il primo a riconoscerlo. Però nello stesso tempo Giovanni annuncia e profetizza anche la morte di Gesù con la sua morte. Ecco allora che la morte a causa della verità, quella morte che vive Giovanni Battista come testimonianza, come martirio, non è nient'altro che un precorrere la morte di Gesù che muore proprio per la verità e per donare la salvezza a tutti quanti gli uomini. Dunque Giovanni non è soltanto uno che parla, ma è uno che fa. E mediante le sue azioni annuncia e precorre proprio la vicenda del figlio di Dio. E in effetti una delle azioni più importanti di Giovanni il Battista, ecco il nome, anche l'aggettivo per il quale, per la cui azione Giovanni è ricordato, è proprio il battesimo, Giovanni il battezzatore. E Giovanni con il battesimo di Gesù al fiume Giordano potremmo dire che porta a compimento quella che poi è la sua missione. Un battesimo che è diverso ovviamente, come ben sappiamo, rispetto a quello portato da Gesù. Perché Giovanni dice che Gesù porta un battesimo in spirito santo e fuoco. Vuoi spiegarci che cosa vuol dire questa espressione, Don Giovanni? Sì, 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 gioca tutta lì proprio la differenza tra il battesimo che fa Giovanni e quello che realizza e inaugura Gesù con la sua stessa vita. Quello di Giovanni è semplicemente, potremmo dire, un atto penitenziale. Cioè Giovanni invita le persone alla conversione e questo gesto di conversione diviene un impegno pubblico mediante l'immersione nell'acqua del fiume Giordano. Il battesimo invece che porta Gesù si realizza nel dono proprio dello Spirito Santo. Cioè crea in noi una persona nuova, fa di noi una persona nuova. Noi nel battesimo, che tante volte però viviamo in maniera separata anche dalla cresima, da quella che è la confermazione, ma formano un tutt'uno, in quello che la Chiesa chiama proprio i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Proprio grazie al dono dello Spirito Santo noi diveniamo figli di Dio. Dunque non è semplicemente un gesto esteriore, quell'acqua che cade su di noi, ma è espressione di qualcosa di molto, ma molto più grande che si realizza. Noi entriamo in intima unione con Dio, diventiamo Suoi figli. Allora questo è davvero diverso rispetto a quello che realizzava o che annunciava con il suo battesimo Giovanni il Battista. E l'ultima domanda, don Giovanni, è relativa ovviamente al termine della vita del Battista. Abbiamo detto all'inizio che la Chiesa ricorda la Natività oggi, 24 giugno, ma il 29 agosto sappiamo che è il martirio di San Giovanni il Battista. Si ricorda questo lato finale con cui il Battista testimonia appunto il suo essere profeta. Cosa è successo dopo la morte del Battista? Sì, diciamo che innanzitutto la morte di Giovanni è una morte molto emblematica, perché ci spiega qual è la missione di ogni discepolo di Gesù. Tutti quanti sappiamo com'è morto Giovanni perché Erode fa arrestare a causa del fatto che Giovanni dice la verità a tutti che la moglie, la concubina che lui si è messo in casa, Erodiade, è una moglie illecita. Sappiamo che in occasione di questi festeggiamenti, proprio a causa di questa danza che compie la figlia di Erodiade e Salomè, ecco che a causa di questa promessa Erode è costretto a far tagliare la testa a Giovanni. Però la morte di Giovanni è eloquente proprio perché ci ricorda il bisogno di non tacere la verità. Muore per Cristo che è la verità. E dunque insegna anche a noi tante volte che abbiamo bisogno di un forte monito da questo punto di vista nella nostra vita di fede a non cedere a compromessi con il mistero dell'amore di Gesù, a vivere questo amore non tanto con le parole ma con i fatti. E dopo la morte di Giovanni ecco che si realizza quello che Giovanni stesso aveva detto parlando di Gesù. Egli deve crescere e io invece diminuire. Giovanni con la sua morte lascia lo spazio a Cristo. Ora basta Gesù. Non ha più bisogno che ci sia un profeta che l'annunci perché lui è il compimento di quel regno che Giovanni aveva annunciato e che tutti avevano sperato. Ormai quel regno è vivo ed è presente e Gesù è la persona proprio che lo realizza. E Giovanni con la sua vita ha incarnato proprio questa preparazione all'accoglienza di questo regno. E insomma abbiamo visto che la figura di Giovanni il Battista è importante e ci dà anche parecchi spunti di riflessione per il nostro vivere quotidiano. Non è un caso insomma che sia così amata come figura e il fatto che ovviamente poi sia festeggiato nei due modi che abbiamo visto stamattina insomma è davvero eloquente da questo punto di vista e quella liturgia ovviamente non è un caso che ci inviti a ricordarlo e a festeggiarlo sia nel momento della nascita che nel momento della morte. Allora Don Giovanni io ti ringrazio per essere stato con noi perché abbiamo provato a dare delle pennellate di questa vita straordinaria del Battista che oggi la Chiesa pone dinanzi a noi e ti ringrazio di cuore davvero perché hai ritagliato un po' del tuo tempo per essere presente anche se solo virtualmente nei nostri studi. Grazie e ancora auguri. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Grazie a Don Giovanni Frisena. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme. Grazie a Don Giovanni Frisena.